Calciomercato ancora nel vivo per le squadre di Serie D, che tra un affare e l'altro cominciano a gettare le basi per la nuova stagione, anche a livello atletico. Organico praticamente al completo per il Bitonto, che con l'accessione di Vona alla Vistus Francavilla, ha momentaneamente chiuso la sessione estiva in attesa di ulteriori occasioni, sia in uscita che in entrata. Oggi pomeriggio l'amichevole con Luci Biceglie per testare la condizione della squadra, dopo il pareggio contro il Barletta e prima del test di domenica contro il Mola. Dopo l'arrivo di Zerbo in attacco, invece, l'Altamura passa al lancio dalla campagna abbonamenti. Il ritorno del pubblico negli stadi, al 50% della capienza di ogni impianto, è un'occasione importante per i Murgiani, che durante la scorsa stagione, nel momento più delicato in termini di risultati, non hanno potuto contare su un ambiente storicamente passionale. Anche per i Biancorossi amichevole pomeridiana contro il Corato, formazione di eccellenza che punta al salto di categoria dopo la finale playoff del Girone A, giocata a giugno. Squadra ancora in costruzione a Brindisi. Dopo l'aria missione in Serie D, i Messapi ci stanno completando nel blocco che affronterà il Girone H a 21-22. Oggi l'arrivo di Serafino dal Taranto, domani quello di Alessandro De Luca, centrocampista, ex Cavese Giuliano. Ormai al completo anche il Cerignola, che continua ad allenarsi a Palena in un intenso ritiro precampionato. Stessa situazione per il Casarano a San Giovanni Rotondo, dove la squadra di Calabuig sta effettuando la preparazione atletica dopo la delusione dello scorso anno. Domani invece è il giorno in cui verranno annunciati i gironi di Serie D, un momento in cui il lavoro delle 11 squadre pugliesi verrà sospeso per conoscere i rispettivi avversari della prossima stagione. Ancora in piedi l'ipotesi del raggruppamento a 20 squadre. Ballano infatti le posizioni di quattro compagini campane, possibile l'inserimento di Portici e Noceria nel Girone H, con Cavese e Casertana, che invece dovrebbero essere collocati altrove.